Se nel caso delle imprese e soprattutto delle istituzioni non profit il censimento deve aiutarci a definire esattamente il campo di osservazione e l'universo di queste imprese e istituzioni, nel caso delle istituzioni pubbliche è evidente che noi sappiamo già quali sono le istituzioni a cui dobbiamo rivolgerci, circa 13.000. Quello che questo censimento ci aiuterà a fare sarà una fotografia dettagliata della presenza sul territorio di queste istituzioni, ma anche delle loro caratteristiche, della loro efficienza. Questo è un tema molto caldo in questo momento nel dibattito nel nostro Paese, in cui la pubblica amministrazione deve cercare forme di maggiore efficienza, ma anche una presenza sul territorio più equilibrata. Per questo il censimento delle istituzioni pubbliche fornirà una informazione fondamentale per eventuali riorganizzazioni della presenza sul territorio dello Stato, ma anche per migliorare l'efficienza di queste stesse istituzioni. Abbiamo scelto una forma di raccolta dati esclusivamente via internet, che non solo è più rapida, non solo è più economica, ma apre la strada a una ripetizione periodica di questa rilevazione, proprio per aggiornare continuamente queste informazioni che magari ci mostreranno un quadro della pubblica amministrazione nei prossimi anni più efficiente e diversamente distribuito sul territorio.